Avendo il Dio creato tutte le cose del mondo, compreso l'uomo, che suscitò peraltro da un misero pugno di polvere, giunto nel giorno del riposo legittimo, s'accorse improvvisamente, e probabilmente non senza un divino dispiacere, d'aver dimenticato qualcosa di veramente importante. Tutto era stato generato dal nulla, ma non il nulla. Il nulla era rimasto ingenerato, si era conservato ancora quale vacuum terrifico da cui la vita era condannata a guardarsi con una grande angoscia. Da sempre paventava ad essere annientata ed essere così costretta a scomparire dalla faccia del mondo ancora prima d'aver compiuto il ciclo che le era dovuto. Pensò, nella sua somma sapienza perciò, di provvedere immediatamente alla mancanza di cui era divenuto consapevole. Si mise di buon grado a creare anche il niente. E il niente scaturì, ricco di una presenza del tutto particolare. Aveva di fatti perduto di quella sua indefinitezza e sterilità di cui era stato costituito fino ad allora. Era sì abisso profondo, ma aveva anche acquistato alcune proprietà esclusive, differenti da quelle che gli oggetti del mondo creati nei primi sei giorni del divino intervento si portavano in presso quale viatico per l'esistenza. Ma qualcosa di imprevisto anche per la mente di Dio accadde. Tutto, ogni oggetto del mondo, dal giorno alla notte, dai verdi prati al libero volo degli uccelli, incominciò a trasformarsi, attratto da un'inclinazione nuova. Così anche la mente umana, che tuttavia s'accorse di non essere ancora pronta per il nuovo stadio che, con la creazione del niente, si era realizzato. Il mondo, ora apparso, era continuamente percorso da impressionanti folate di quel niente sottilissimo che tutto lasciava trasparire. La realtà fenomenica si svuotava, liberata mano a mano dal suo originario massiccio corpo sensibile. Si faceva docile a una nuova ricezione, trapassabile da un punto all'altro, senza resistenza, aperta su tutte le direzioni e in contatto permanente con l'infinito, invisibile ed estranea tuttavia l'osservazione di cui una mente, come era quella attuale, non sufficientemente evoluta perché sottomessa all'imperio materico degli apparati sensoriali, era capace. Soltanto Dio poteva contemplare lo straordinario paesaggio che lui stesso aveva creato e così gioirne, essendone perfettamente consapevole, avendo egli una mente libera da qualsiasi traccia che deformasse o che oscurasse, così che, sollecitato dalla bontà smisurata che lo contraddistingueva, non sopportasse, anzi, ne avesse quasi dolore, l'egoismo d'essere lui l'unico fruitore di quella meraviglia, così è scritto, secondo una certa esegesi dell'origine. Secondo una diversa interpretazione, più umana peraltro, si considera invece che egli mal sopportasse d'essere tanto solo nella mistica contemplazione di quel mancare, nella quale egli aveva creato l'espressione somma del non essere. Un nulla che accoppiatosi con la trascendenza ad un essere superiore, quale era Dio, aveva annichilito quella perfezione trasfigurandola in una ulteriore assenza dalla bellezza e verità sublimi. Ritenne perciò opportuno intervenire ancora, affinché quel mondo nuovo inaccessibile si manifestasse almeno per un certo periodo di tempo. Qualche indizio fosse dato, qualche cenno della superiore consapevolezza non dileguasse nella dimensione di luce perfetta e di nulla compiuto. Pensò che di quell'assenza un contenitore, diverso dalla pura essenza, assenza divina, potesse essere costruito. E si accinse a un diverso rapporto con la mente degli uomini. Questa, nel mondo delle cose, era comunque l'oggetto meno concreto, più prossimo all'immaterialità del nulla appena creato. Grazie. Grazie.